Ciao a tutti, sono Simona Bellone, presidente dell'Associazione Culturale Carte di Millesimo in provincia di Savona. Per il Festival Carte delle Arie 2017 partecipano numerosi artisti da tutta Italia e vi leggerò i loro componimenti che ci hanno avviato, uno per autore. Vi prego votate la poesia, il racconto, il like o il libro che più vi piace, sia in Youtube che in Facebook. I migliori componimenti riceveranno il 30 luglio 2017 presso il comune di Millesimo in provincia di Savona il Festival Artino, un'opera artistica a loro dedicata. Vi prego ascoltate, vedete i video, votate e riguardateli perché contano sia le visualizzazioni che le votazioni. Grazie, buon ascolto. Sfogliando l'agenda di Enrico Paravicini di Varese Forse ho scoperto nuove parole per un'antica storia già raccontata. Ho depennato anche il tuo nome dal prontuario museo, scritto come tanti a matita, sulle pagine ingiallite dal tempo e dalle cancellature. L'autunno non è lontano e ancora mi troverai qui, con il sorriso stanco di ogni giovedì pomeriggio, ubriaco come sempre di birra e di presunzione. Ciao a tutti, sono Simona Bellone di Millesimo in provincia di Savona Vi invito all'ascolto delle opere partecipanti al Festival Carte delle Arti 2017 Votate i video in Youtube e le foto in Facebook nella pagina ufficiale dell'Associazione Culturale Carte I migliori componimenti riceveranno il Festival Artino 2017 presso la Sala Consigliare del Comune di Millesimo in provincia di Savona il 30 luglio Le votazioni vanno dal 1 al 20 luglio Mi raccomando, votate e buon ascolto a tutti milioni, ecco adate e buon ascolto a tutti Grazie a tutti.